Buon pomeriggio, ho visto la manifestazione di Roma attraverso il canale del Fatto Quotidiano, manifestazioni che erano presenti ovviamente il Movimento 5 Stelle, il PD, la sinistra e i sindacati. Ora, ve l'ho detto, qui si tratta di combattere una battaglia per la difesa dei più poveri, e quindi, come disse Cerci, se Hitler dichiara guerra all'inferno, mi allero con Satana. So benissimo che le colpe del PD e della sinistra, cioè di Fatto Ianni Bonelli, sono enormi in questo senso, perché quando hanno avuto la possibilità non hanno mai fatto un accidente, quindi anzi, hanno ostacolato loro per primi in maniera sotterranea all'RDC. Però in questo momento, ve l'ho detto, non è il momento di fare i puzzafiatisti. Mi dispiace, ma c'è una guerra da combattere, bisogna combattere da qualsiasi lato che si possa avere. Ricordando che quell'alleato si è comportato in un determinato modo, lo dico perché, come si suol dire, va bene, siamo alleati, ma di te non mi fido. Diciamola un po' più chiara. È finalmente un primo segno. Penso che i giornali filogovernativi, cioè il quartetto della Zozzurra, non so come definirli, non so come definire Libero, che ogni giorno ha un titolo nuovo sulla Shino. C'è solo quello, di cose serie non parlano, ma in fondo basta ascoltare Sallusti per capire se sei guidato da uno così. Io voglio aver fatto una sola domanda anche qua, però servirebbe gente cattiva. Quando sono uscita con la cazzata del Vaillant, Bersani ha fatto una faccia esterefatta. Io semplicemente avevo chiesto a Sallusti una cosa, ma tu ci sei o ci fai? Perché se ci sei ci sono ottime terapie. Se ci fai, vabbè, hai dato via il culo, e almeno lo sappiamo tutti, che la tua dignità vale più o meno come la carta igienica usata. Detto questo, tutto il quartetto l'ho detto di Libero, il giornale è la verità e il tempo. Ne metti tutti e quattro insieme e non ne valgono mezzo. Però questo deve essere il primo passo. Adesso servono shopper e tappeto, servono manifestazioni e tappeto molto più grandi, voglio vedere quella dei 17 giugno con Conte, o dei 7 giugno, magari sbaglio la data, scusatemi, con Conte, voglio vedere veramente mobilitazioni di piazza e mobilitazioni sistematiche. Perché poi questo si riallaccia alle parole della Meloni, di cui vi ho parlato nel video prima, in cui dice chiaramente che non vuole combattere la piccola evasione perché è pizzo di Stato, e quindi di fatto la legalizza e, ancora più grave, è inutile essere onesti, capite? Voi onesti, voi lavoratori dipendenti che pagate le tasse perché non potete evitarlo, pagate le tasse anche per quei figli di madre ignote, padre cervide, che poi sfruttano le vostre tasse magari per prestazioni sanitarie o altro. Perché poi, ragazzi, vi ho detto, ci leggevano i commenti sotto, se fanno fatica ad arrivare alla fine del mese, ma per favore, ma vai a prendere per il culo qualcun altro. Non è non pagando le tasse e chiedendo tasse più giuste, ma se la legge è questa, tu la legge la rispetti. E ti batti perché questa tassazione che è ingiusta, sono io il primo a dire che in Italia la tassazione è ingiusta perché la tassazione non è minimamente rapportata ai servizi che ti dà lo Stato. Questo è vero, ma tu non è che per combattere una legge ingiusta devi delinquere, devi frodare lo Stato. La combatti spingendo perché si correggano le cose, perché si abbassi il livello della tassazione. Dicevo, non solo da questo... I fessi pagano le tasse, secondo la Meloni. Gli onesti sono fessi perché pagano le tasse anche per quelli che non le pagano, perché quei poveretti là che magari hanno in garage due Mercedes, ma poverini, fanno fatica ad arrivare alla fine del mese, taroccano tranquillamente tutto quello che possono taroccare. Lei dice, ma non dobbiamo combatterli perché se no è pizzo di Stato, bisogna combattere la grande evasione. Chi è che l'ha messa lì la Meloni? È stata messa lì grazie ai soldi, ai contributi, agli spintoni di quella massa di grandi imprenditori, che alcuni non li vorrei neanche vicini, non dico a un tavolo, se li vedessi vicino a me sul treno, cambierei posto perché tenterebbero di fregarmi il portafoglio per quanto sono marci dentro. L'hanno messa lì loro, figuriamoci come combatterà l'evasione, la grande evasione. Non vuoi combattere la piccola perché dici che è un pizzo di Stato? La grande non la puoi combattere perché ti hanno messo lì loro quando la combatti. E si riallaccia poi sempre al discorso del lavoro, no? Per lei il salaio minimo potrebbe diventare un boomerang, che è una stronzata, ve l'ho detto. Io quando l'ho sentito, ma questa qui è fuori di Melone, tanto per fare assonanza col nome. E così poi nel chiacchierato con il mio fratello telefono mi fa, beh cazzo, meno male che non l'abbiamo mai avuto lei come consulente finanziaria, se no invece di avere i Ferrari in garage staremmo sotto un ponte. Con una che ragiona così, poi sono aspettati delle gran troiate. E infatti lo si vede, no? Una rata del PNR è saltata e sta per saltare la seconda, grazie a questa. Perché poi saltano fuori. Eh ma sotto Conte e con il governo PD ci sono stati più grandi tagli, ed è vero, sono uno di quelli che si è sempre incazzato per i tagli alla sanità e per i tagli alla scuola. Sì, mi sono sempre incazzato, io ho sempre considerato l'azzolina una sciagura che cammina e infatti la invitano sempre nel talk show, un po' come Calenda, no? Calenda è uno che quando apre bocca tu sai che dirà una stronzata, ma lo invitano sempre nel talk show, su quello non ci piove. Però a Conte ti devi riconoscere i 240 miliardi circa del PNRR, perché il 209 possono diventare i 240, 240 milioni scusatemi, del PNRR. A questa devi riconoscere che non li sta usando e li sta perdendo. Cioè per adesso ne hai già persi 19, vediamo di perdere gli altri 19, vediamo di perderli del tutto. E poi cosa fa? Eh ma non ci sono fondi. Eh ma quando uno ti dà i soldi, ti dice guarda io ti do questi soldi, usali e tu non li usi. Eh ma io te li do una volta, ma la seconda volta non te li do più, perché tanto li lasci lì, anzi, mi ridai quelli che ti ho dato. E se ti sento dire, eh ma non ci sono fondi, dico ma che cazzo, ma te li ho dati? Scusatemi, ma sembra una storiella che da noi è anche abbastanza famosa, no? Del tizio che si trova sul tetto di una casa, tutto completamente circondato dall'acqua, perché c'è stata un'ondazione, e passa una barca e gli dice, salta su, ti portiamo il salvo nonno, no, ci penserà Dio. E loro vanno. Passa un motoscafo, salta su, ti portiamo il salvo nonno, no, ci penserà Dio. Passa un elicottero, dice, salta su, ti portiamo il salvo nonno, no, ci penserà Dio. Alla fine, vabbè, va a Margherite. Quando si trova in paradiso, dice, ma perché non mi hai aiutato? Rivolgendosi a Dio. E Dio gli dice, ma come, ti ho mandato una barca, un motoscafo e un elicottero. Ecco, questa è la mentalità che c'è dietro, eh ragazzi. Questa è la gente così. Quelli ti danno i soldi proprio per li usare, e tu non li usi, poi ti lamenti che non ne hai. Dopo aver sentito giustificare l'evasione, perché contro cui non fa un cazzo e non farà un cazzo. Dire che quel taglio del cuneo che fa ridere i polli, che soltanto lei e i boccaloni che ci credono, il grande taglio, ne ha fatti molti più grossi draghi, gli ha fatti più grossi conte, gli ha fatti più grossi renzi, gli ha fatti più grossi proti, tanto per citarne quattro che hanno fatto tagli più sostanziosi di quelli che ha fatto lei, e poi l'ennesima vacata e mi trovo in una situazione più difficile nel governare. Cazzo, va, torna indietro di tre anni. Torna indietro al 2008. Torna indietro al 2012. Poi ne riparliamo di situazioni difficili. E non sto andando veramente indietro nel tempo. E non sto andando alla crisi petrolifera del 70 e così. Poi ne discutiamo, al periodo degli anni di piombo. Veramente, ci vuole una faccia come la sua per dire certe cose e rimanere seri. Per cui mi va benissimo le manifestazioni, ma devono essercene di più, devono essercene tante. E questo governo deve sentirsi bruciare sotto il culo. E soprattutto, ogni volta che c'è un'elezione amministrativa, votate per l'avversario della Meloni. Non tanto perché vi piace votare. Non è un voto, ve l'ho detto, non è un voto di convinzione. No, è un voto per far cadere i suoi rappresentanti. Perché se non si comincia a spaccargli le fondamenta da sotto i piedi, questi non si spostano più perché se ci aspettiamo che gli facciano crollare i frattogliani e le schlane, stiamo qua. E anche Conti continua a dire che da adesso sono svegliati e voglio vedere una manifestazione del 17 che non deve essere una festa paesana ma deve far tremare i muri di Roma. Unica nota stonata, lo dico, per la manifestazione, ma non c'entra la manifestazione. La vedete nel video del frattogliano. C'è sempre il solito coglione che siamo lì per una cosa e deve parlare di altro. Questo va lì a parlare del salaio patriarcale. Che stracazzo c'entra! Sapete una cosa che mi ha sempre dato rabbia, no? Si fa una manifestazione per il diritto al lavoro e ti trovi le bandiere arcobaleno che stracazzo c'entrano, le bandiere dei nostri vicini di casa che stracazzo c'entrano perché ce le devono infilare dentro a forza. Se devo parlare di pere non ci infilo dentro le banane. Questa è la realtà. Fate manifestazioni che hanno uno scopo e un senso e devono avere solo quello scopo e quel senso. Le altre cose manifestate da un'altra parte che in quel momento lì sono sostanzialmente inutili. Vabbè, comunque, per me è un piccolo primo passo. Però ragazzi, adesso non deve essere il primo e poi chissà quando il prossimo. Di questi passi ce ne devono essere tutti i giorni e a tutti i livelli. A tutti i livelli. Cominciate a non seguire più certi canali non dico tanto per voi e dico in generale certi canali di divulgatori difensori a spada tratte tanto ci penso io a sentire le loro stronzate sai quanto cazzo me ne frega me? Cominciate ad andare sotto quel canale e dire basta avete rotti i coglioni basta raccontare balle avete finito finitela di scocciare a segnalarli quando raccontano delle menzogne palesi e pesanti perché io fu a schiacciare il tasto segnala su google per disinformazione mi sta venendo il callo al dito per dire è un'esagerazione ovvio diamo dei segnali forti cioè che questo governo che è lì perché gli italiani non hanno voluto votare e li capisco benissimo per lo schifo che ha prodotto la politica negli ultimi decenni deve capire che non può continuare a far così non può togliere ai poveri per dare ai ricchi e soprattutto ai ricchi disonesti ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti